Ciao, sono a Parma, al Teatro 2. Sono qui sulla scena dell'istruttoria che è andata in scena stasera in questo quarantesimo anniversario di questo spettacolo importantissimo con la regia di Gigi Dall'Aglio che ha avuto anche un incontro oggi pomeriggio molto importante con le docenti Roberta Gandolfi e Marafazio e anche il compositorio originale Alessandro Nidi dello spettacolo. L'istruttoria Peter Weiss l'ha scritta nel 1965. Lui era stato testimone del primo processo che riguardava l'Olocausto ed è un grande esempio di teatro documentario. Ma qui sono con una delle attrici del Teatro 2, Laura Clary. Ciao Laura. Ciao. Che è dall'inizio di questa grande avventura unica, come è stato detto in questo pomeriggio, nel suo genere perché da quarant'anni tutti gli anni va in scena a Parma e in tour in tutto il mondo. Laura, 25 aprile 1984. 25 aprile 1984 c'è stata la prima di questo spettacolo, quindi quest'anno appunto compiamo quarant'anni. All'epoca ero effettivamente molto più giovane, avevo 23 anni ed ero una ragazza che usciva dalla scuola, diciamo così. Qui del Teatro 2. Qui del Teatro 2, esatto, dalla scuola Fare Teatro. E subito in questo grande evento appunto si è stata lanciata. Va bene, ho cominciato a lavorare nell'82, diciamo così con un altro spettacolo. Questo spettacolo era uno spettacolo che la compagnia del collettivo voleva mettere in scena e ha scelto delle ragazze, eravamo quattro ragazze giovani, io la Giovanna Pattonieri, la Francesca Mora e la Milena Metitieri che ancora recita come me nello spettacolo da 40 anni e abbiamo fatto questa grande avventura che per noi è stata soprattutto una scuola di formazione anche perché lavorare con Gigi Dallaglio, chissà chi ha lavorato con lui, lo sa. Infatti a proposito di questa parola, scuola di formazione, mi ha molto colpito oggi perché è stata detta da te e poi ripresa anche dai tuoi colleghi. Ti va di dimmi qualche altra cosa anche riprendendo le battute di oggi perché è stato davvero un pomeriggio, io ero tra i pochi e non l'avevo mai visto l'istruttore, è stato davvero molto, molto, molto toccante. Scuola di formazione perché questo spettacolo innanzitutto è stato costruito in 17 giorni, quindi in un tempo molto limitato perché loro avevano fatto tante cose durante quell'anno e comunque c'era questo tempo. Gigi aveva un'idea molto precisa di quello che voleva fare, ha costruito questa drammaturgia che andava un po' contro il volere dell'autore Peter Weiss che aveva proprio dato indicazioni sul fatto che l'istruttoria doveva essere messa in scena come documento, come teatro documento appunto. Invece Gigi ne ha fatto uno spettacolo restituendogli proprio la carnalità dell'attore, nel senso che è passato dal documento, dagli atti del processo, che sono poi la materia del testo e quindi ha voluto farne questa versione che adesso forse nella scena non avete visto oppure, sì non so se tu hai inquadrato, dove c'è questa parete nera, dietro ci sono i camerini degli attori e davanti praticamente e c'è la scenografia, chiamiamola così, è una parete nera con una doppia valenza, quindi il pubblico non entra direttamente, non si viene a sedere qua, ma fa un percorso. Scuola di formazione perché? Perché quando hai vent'anni e hai fatto una scuola e poi ti trovi in un'operazione come questa e la perduri per 40 anni, è chiaro che tu cresci con il personaggio, invecchi con il personaggio, il tuo personaggio diventa te stessa. E ti scambi anche personaggi perché appunto è stato molto bello come tu facevi un altro ruolo, poi dopo ci sono dei ruoli. Io prima facevo quando ero giovane, ma in realtà fino a otto anni fa ho fatto il ruolo, diciamo così, in questo personaggio, scusami, in questo testo ci sono tantissime figure. Noi praticamente facciamo sei o sette personaggi per uno, diciamo così. Quindi c'è la figura del giudice che è quella che faccio adesso, che per molto tempo è stato interpretato da Tania Rocchetta, che purtroppo ci ha lasciato. E quindi diciamo così che negli anni che passavano ci sono stati dei passaggi di testimone, nel senso che gli attori, che magari prima dei nostri attori del nostro gruppo, della compagnia del collettivo, che all'inizio non erano nel cast, hanno sostituito quelli che sono venuti a mancare, così come Giorgio Gennari è stato sostituito da Paolo Bocelli. Poi un anno Tania andò a fare lo zio Vania di Peter Stein, entro Bruna Rossi a fare il personaggio del giudice. E poi invece negli ultimi anni, quando è venuta a mancare Tania, abbiamo deciso di passare la mia parte a Paola De Crescenzo e io ho preso il ruolo di Tania. Nel frattempo è successo purtroppo che è morto anche Gigi, e quindi dopo il Covid ci siamo chiesti cosa fare. Abbiamo deciso di portare avanti lo spettacolo, nonostante la sua assenza, e abbiamo deciso di sostituire Gigi, non con un attore solo, ma con due, introducendo due ragazzi più giovani che sono i due ragazzi giovani in scena. Davide Gagliardini e Max Barsi, che fanno parte del nostro gruppo. E quindi le parti, diciamo così, che nel testo sono più giovani, sono state abbandonate, ad esempio da Roberto Abbati, che ha preso le parti di Gigi. Insomma diciamo che Gigi, scusami che Roberto e Paolo, si sono presi le parti più adulte. e Davide e Max hanno fatto le parti che nel testo sono più giovani, diciamo così. Come la vita. Quindi c'è stato un grande rimescolamento. Come la vita. Come la vita, che c'è una sostituzione di generazioni praticamente. Cara, ti ringrazio tantissimo. Ci tenevo di dire una cosa. Sì, vai, vai. Vai libera, vai. No, volevo dire che quando per 40 anni senti il testo, non tutte le sere ovviamente, ma perlomeno nel mese in cui lo riprendi, quindi teniamo conto che questo spettacolo ha fatto tantissime repliche. E è stato visto da tantissimi. 1.500. 1.500, sì. È stato visto da 300.000 persone. E tu vivi tutte queste cose. È chiaro che chi fa qualcosa viene ascoltato dagli altri. E quando tu ti trovi, ad esempio come nel mio caso, a interpretare la parte che ha fatto per tanto tempo un'altra persona, è inevitabile che questa cosa, questa voce, entri dentro di te. E questo è quello che è successo un po' a tutti. Nel senso che tutti viviamo dell'interpretazione degli altri. 2.500. 2.500. Tutti quei piccoli dettagli che sono stati costruiti, sono stati mantenuti e nel frattempo chiaramente sono cambiati perché noi stessi contribuiamo a cambiare lo spettacolo. Anche se in realtà la regia è rimasta questa. È sempre esattamente la stessa di 40 anni fa. Va bene, allora ci vediamo per il cinquantesimo. Sì. Grazie Laura, è stato un pomeriggio incredibile. Tutta la settimana è ancora lo spettacolo. Sì, fino al 7 addirittura andiamo avanti. Quindi se qualcuno non l'ha ancora visto o lo vuole rivedere. Se trova a posto. Noi siamo qua. Se trova a posto. Ciao, grazie. Grazie, ciao.